Una nuova voce, un sound innovativo, lì dove la musica finisce e le emozioni partono, è Michele Costanza. Con il suo primo lavoro discografico, Credi in Tei è pronto a farvi emozionare. Otto brani, otto emozioni, con gli arrangiamenti del maestro Silvio Visconti, registrato negli studi della SB Record. Featuring grandi autori, un disco che farà parlare di sé, Michele Costanza. Credi in Tei, il lavoro discografico di Michele Costanza. A luci spente sapevi cosa fare, ora vuoi fare la santa e non va bene, Soltanto adesso conosco la tua voce, prima dicevi soltanto dai non ti fermarmi. E tu rilassi una volta, con lo vaso dal cielo passato. Credi in Tei, il primo lavoro discografico di Michele Costanza. Per acquistarlo, chiama al 335-5347-602, oppure rivolgiti alla SB Record. Credi in Tei, il primo lavoro discografico di Michele Costanza.